La sollecità è sempre all'essere. Parti. L'interprete di Fanatic perde le staffe, assume invece il comando dall'esterno sugo, poi in seconda posizione de-catcher, quindi per l'insterne Alcatiana, poi a un paio di lunghezze segue Fanatic con Zapulla che si è rimesso le staffe e segue un coda al drappello. Cavalli che fanno ingresso in retta di arrivo con all'interno sugo a centropista de-catcher Alcatiana, a largo Fanatic, siamo ai 250 conclusivi con sugo attaccato da de-catcher a largo Fanatic, poi Alcatiana siamo a cento dal palo con de-catcher che ha una lunghezza di vantaggio nei confronti di sugo, de-catcher vince nei confronti di sugo, poi a seguire Fanatic e Alcatiana. Quindi successo per de-catcher e Roberto Fontana per i colori del signor Sardelli, training del signor Vizzini, de-catcher attacca e passa ai 200 conclusivi sugo, che si deve adeguare al posto d'onore, poi il terzo è Fanatic. Quindi successo per Roberto Fontana e de-catcher in questa prima del convegno. In alla regia. Grazie.